era ottobre si lavorava poco faceva ancora bello stavo quasi annoiando mi son detto che faccio scrivo 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 di quella vacanza nel 90 con zanna e ugege si 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 bella divertentissima avevo venta anni figurati alla grande iniziamo a scrivere ma vediamo come risponde il pubblico vediamo come risponde il pubblico e allora mettiamo il primo episodio su facebook e tutti bello dai dai continuo allora mettiamo il secondo episodio su facebook tutti voi lasciar così va bene allora mettiamo il terzo episodio su facebook e tutti e poi e poi cosa succede poi va bene allora se piace poi allora scrivo il libro scrivo il libro ecco chiamo zanna e ugege così mettiamo insieme ricordi almeno tiriamo fuori qualcosa non mi ricordo tutto e poi a poi ci sono le foto le foto io però sono in spagna voi siete in italia mandatemi le foto così facciamo un libro illustrato e va bene uno inizio a dire eh ma devo cercarle certo certo l'altro mi dice eh ma devo chiedere i miei l'altro dice questa settimana devo far studiare la bimba di pomeriggio vabbè va a studiare la bimba l'altro sai che ho calcetto poi chiama l'altro ma guarda c'è un po' di reflusso gastrico curati curati l'altro eh guarda c'è la portiera della macchina che non si chiude bene la farà riparare un mese un mese un mese per stesso di foto un mese aspetto le foto aspetto le foto intanto scrivo scrivo è lunga è belgio olanda danimarca svezia tante persone tanti posti tante storie eh quattro mesi quattro mesi per scrivere sto libro quattro mesi eh quattro mesi quattro mesi adesso cosa facciamo facciamo stessa formula proviamo la formula episodi lo mettiamo sul sito sul sito va bene compiamo il sito è però per scrivere sul sito devi imparare wordpress wordpress cos'è wordpress chi l'ha mai sentito wordpress word di doc quello no non va bene un'altra roba un'altra roba imparare sta roba wordpress wordpress un mese un mese un mese per imparare sto p***o di wordpress un mese beh abbiamo il sito abbiamo però chi lo fa il sito si ho preso il dominio ma chi lo fa ci vuole il tecnico il tecnico eh chiamiamo tecnico chiamo il tecnico qua e mi dice e ma sai ho anche altri lavori beh fai altri lavori e ma devi metterti in coda quante lunga sta cosa vuoi e ma guarda adesso appena posso beh appena puoi un mese per fare sto p***o di sito un mese ci ha messo per fare sto p***o di sita ahu lagua uè vai guardiamo il sito facciamo gli episodi e guadagnare qualche cosina facciamo facciamo l'ebook facciamo l'ebook facciamo l'ebook dai 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 facciamo l'ebook ci ha un ebook inizia un po' a informarmi e noi ci provo io ci provo io sennòivanio dal pagamento faccio io faccio io un macello, ho sbagliato tutto, pieno di regole, impaginare e cose qua la chi ne ha fatto sta roba qua, l'ebook, non lo so, meno male che c'è Eric Angel che mi ha aiutato se no a questo punto io un mese per fare l'ebook, anche l'ebook mi ha preso un mese per fare sti book, un mese lettori andate a comprare il libro su Amazon, lettori fate bocchiata al libro su Amazon Grazie a tutti